Potrebbe strappare un voto favorevole alla Camera dei Comuni su questo accordo con l'alternativa che sta emergendo chiarissima, o il mio accordo o questo. Comunque prevede un periodo di transizione morbido per l'uscita oppure un no deal, cioè come abbiamo sentito dal servizio davvero uno scenario di saldo. Il 30 aprile dell'anno prossimo c'è però l'opzione che questo accordo non passi alla Camera dei Comuni e qui ci sono due possibilità.